Corso di trading time basic 2.0 in super offerta per il summer black friday bene ciao a tutti ragazzi apriamo così questo video con l'annuncio che abbiamo fatto ieri anche nella live dove abbiamo ospitato anche due i trader che hanno raccontato la loro vita, la loro storia, quelle che sono le difficoltà classiche che il trader e l'investitore vanno ad affrontare nei mercati secondo me è molto interessante da un profilo psicologico andare a vedere quelle cose abbiamo deciso poi di lasciare open la live ragazzi perché moltissimi di voi ci hanno chiesto la registrazione in quanto non potevano assistere in diretta è un po' una live fuori dal coro rispetto all'argomento di cui trattiamo insomma sul canale youtube però vi piaceva insomma portare anche questo contenuto fatemi sapere anche cosa ne pensate di un contenuto un po' misto no? un po' fatto anche dell'esperienza di vita dei trader in generale vi lascio il link in descrizione della landing page dove potete andare a vedere le offerte ve le faccio anche vedere pack standard premium e master come al solito ma attenzione perché il prezzo scende per quanto riguarda il pack master è valido solo per 5 giorni quindi una super offerta con centone di sconto assolutamente da non perdere poi il pack premium con l'aggiunta del super modulo della gestione del portafoglio secondo me è importantissimo in questa fase e poi il pack master quello che praticamente ha tutti e tre i moduli sia il crypto spread trading e l'aggiunta del portafoglio crypto e il mindset psicologia del trading che tra le altre cose ho terminato di registrare proprio qualche mese fa un modulo al quale sono molto molto affezionato ragazzi allora queste offerte sono valide fino ad una settimana quindi non le perdete ragazzi anche perché l'estate è anche un periodo un po' particolare l'ho scritto anche su un commento telegram che ho appena pubblicato un periodo in cui si vuole fare vacanza in mare quindi mi sembrava che è giusto dare un premio a chi vuole studiare invece in questa fase rispetto ai soliti momenti e quindi è anche giusto avere un prezzo un po' di favore uno scontone che ci sta assolutamente con sto caldo si sposa a dovere tra le altre cose ci sono 8 coupon rimasti per quanto riguarda i 50 euro aggiuntivi questi non li posso aggiungere questa volta ragazzi perché già i prezzi che trovate qui sono già scontati 8 coupon inserite i summer 23 scusate con nell'acquisto e vi scontano 50 euro mi raccomando non lo dimenticate perché poi alcuni di voi scrivono in assistenza che l'hanno dimenticato e poi devono aggiungerlo manualmente a un macello quindi usufruite delle offerte passiamo alla questione di bitcoin perché ragazzi intanto sta facendo un atteggiamento un po' particolare è probabile che siamo in una chiusura di un ciclo mensile per quanto riguarda bitcoin sono molto confuso anche in questa fase perché ragazzi questa struttura che vedete da un punto di vista ciclico non lascia spazio ad una interpretazione oggettiva ma è molto molto soggettiva questo in realtà nel trading e non ci aiuta più di tanto perché quando l'anisi ciclica si mette nella ottica di essere estremamente soggettiva e non lascia dei dati oggettivi da analizzare diventa poco utile e spesso rumorosa forviante anche quest'analisi ovviamente come tutte le analisi in generale ha dei punti deboli e questo sicuramente è il suo quando il mercato in barri di congestione non si comprende bene dove inizia un ciclo e dove finisce il ciclo quindi i cicli si vedono meglio quando i mercati sono in forte trend e fanno chiusure importanti o app importanti appunto come quello che per esempio abbiamo visto dalla metà di giugno se non che abbiamo Nasdaq 100 che invece ci spara quasi massimi perché si sta avvicinando ai massimi storici di sempre era qui che tutti osannavano a un crash e una distruzione di massa come vedete ragazzi l'unica aspettativa con dati fondamentali contro l'exit strategy cioè la politica estrettiva della Fed i tasti che salivano la guerra imminente i prezzi e l'inflazione la recessione che doveva scoppiare alla fine del mondo non è successo niente di tutto ciò il grafico è salito ha continuato a salire ricordatevi sempre trend is your friend quanto è importante comprendere appunto queste cose sia sui mercati old che sui mercati delle criptovalute quanto è importante fare pulizia come insegno nel corso basic ragazzi eliminando confusione eliminando informazioni completamente inutili forbianti e il prezzo che vi dà la direzionalità lo ripeterò fino allo sfinimento ragazzi noi facciamo una serie di ipotesi una serie di idee una serie di scenari per portarci avanti ma poi dobbiamo sempre e solo seguire i prezzi trend is your friend perché i prezzi hanno sempre ragione quando non ce l'hanno poi inverto noi dobbiamo scappare in stop oppure in trading stop va bene detto questo vi faccio vedere anche in dettaglio quelli che sono gli aggiornamenti di questa settimana non l'abbiamo fatto ieri perché c'era la live speciale ipc è l'aggiornamento più importante di questa settimana dell'Europa che è atteso in forte ribasso quindi 5.5 probabilmente potrebbe essere anche qualche punticino al di sotto delle aspettative e in pratica denota all lo stesso tipo di atteggiamento della di quello avvenuto negli Stati Uniti qualche mese fa in pratica è come una fotocopia fed bce ragazzi di quello che è avvenuto qualche mese fa negli Stati Uniti stanno fotocopiando i dati questo significa che vedete come l'economia sono correlate come tutto è strettamente correlato a quelle che sono state le politiche monetarie messe in atto per la pandemia per diciamo agire contro la pandemia poi giovedì abbiamo la richiesta di disoccupazione che però sono identici al precedente dati poca variazione non c'è granché vendita di abitazione le case in linea con il dato precedente tutto fila liscio al momento ragazzi non si vede ancora l'ombra di questa recessione che secondo me puoi fare a capolino nei prossimi mesi ovviamente ma è sicuramente molto più brand di quello che si aspettava ci si aspettava va bene detto questo vi faccio vedere anche tra otto giorni che arriva il giornamento del tasso di di sconto della fed con un rialzo atteso per il 97,3% praticamente il mercato ha sodato un rialzo del 0,25 Pawe l'ha detto più volte io stesso me lo aspettavo anche nel precedente FONC nel precedente FONC non è avvenuto perché Pawe l'ha voluto prendere una pausa ma sapeva che doveva farlo poi successivamente così è stato quindi c'è poco da da fare ragazzi probabilmente a questo ne farà anche un altro probabilmente verso la fine dell'anno quindi per dare lo zampata la zampata finale al tasso di inflazione quindi secondo me anche qui non ci saranno particolari movimenti perché fra otto giorni ormai è scontato che lo alza Pawe l'ha detto quindi solo se non dovesse alzarlo succederà qualcosa ma è difficile che faccia una cosa del genere perché non avrebbe molto 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 senso allora andiamo a guardare la situazione ciclica di Bitcoin poi guardiamo anche quella un po' di Ethereum vi faccio capire le due view che in questo momento si stanno andando a delineare intanto i miei sistemi sono usciti di nuovo e purtroppo in questa fase non riescono a prendere gain perché è una fase di oscillazione e i miei sistemi sono trend follower quindi non possono guadagnare nelle barre di congestione ragazzi c'è poco da fare bisogna perdere il meno possibile in questo caso in effetti la perdita è stata abbastanza contenuta quindi non mi è dispiaciuta questa cosa però si può fare sempre meglio io sono poi già mi dà fastidio quando vendo Bitcoin poi figuratevi se lo dovevo vendere ho perso qualcosina mi dà fastidio abbiamo guadagnati all'inizio dell'anno però a prescindere io nonostante gli anni di esperienza continuo a infastidirmi ovviamente ci dito sopra ragazzi ci scherzo non è che non ci dormo la notte ormai questa questione è passata anni or sono quando c'è da prendere lo stop si prende lo stop e basta tra le altre cose appunto era abbastanza piccolo e poi influenzato da questo spike in realtà in questa fase secondo me questa zona di ribasso può essere ancorata in termini di analisi ciclica ad una view ben precisa o qui stiamo andando a chiudere il ciclo mensile standard di Bitcoin che è ai 32 33 34 giorni di solito arriva massimo 38 una cosa del genere insomma oltre mi puzza un po' si può arrivare ci sono stati anche dei cicli da 45 ma era perché c'era di mezzo un po' di rumore di fondo manfrina movimenti un po' particolari dell'indice altrimenti c'è l'idea che vi ho postato qui cioè di avere delle strutture cicliche ternarie che costruiscono questo tipo di movimento cioè due cicli mensili uniti a quel punto non più da 30 giorni ma è tipo un 60 65 insieme con una struttura in pratica ternaria fatta di 20 22 24 e 20 insomma una cosa del genere adesso ovviamente i numeri sono un po' a casaccio perché tanto conta solo farvi comprendere il la forma di questa struttura ciclica sembrerebbe che il mercato voglia fare una cosa del genere già vi anticipo che la view iniziale con un mensile che sta chiudendo in questo momento è la migliore in termini di analisi bullish quindi se volete vedere il verde sui mercati la view in questo caso 1 quella che vi ho mostrato è quella più rialzista questa view la seconda è quella invece peggiore ed è quella ribassista perché questo perché ragazzi teoricamente una view del genere ci porta all'idea che questa struttura sottostante quindi un ciclo mensile corto da 20 22 giorni è già al ribasso vincolato al ribasso in più abbiamo un massimo fatto del mercato pochi giorni or sono in concomitanza con una struttura di ciclo semestrale che ci sta alla grande potrebbe aver fatto i massimi dell'anno 2023 con estrema tranquillità non c'è nulla di strano e qui arriva il problema da qui in poi ve lo avevo già accennato si può ragionare solo da trader non c'è nient'altro che si può fare perché la struttura ciclica è insolita e non ci dà un'informazione in questo momento iper bullish da un lato con 70 30 di probabilità ma siamo a 45 55 40 60 ciò significa che entrambi gli scenari sono verificabili quindi il vantaggio informativo di in questo momento è piccolo funziona meglio e quindi ragionare in termini di analisi tecnica e ragionare in termini di trigger operativi in modo da prendere le oggettive posizioni gli holder come sempre ben sapete abbiamo indicato il livello di ingresso dell'anno che era intorno alla famoso super dippone che è avvenuto qui a marzo e chi è entrato qui erano 21.000 ha fatto anche 19 e qualcosa al mercato quindi c'è stato l'ingresso i holder non dovrebbero far nulla c'è da dire una cosa ragazzi che se questo ciclo annuale ha espresso tutta la sua potenza rialzista il rischio che il mercato possa scendere nelle prossime nei prossimi mesi c'è e soprattutto c'è anche una buona opportunità di gestione di quelli che sono stati i gain fatti finora quindi anche qui ritorna poi il concetto del trade off no ragazzi non mi formano studio non comprendo neanche le basi dell'investimento e del trading e poi però magari mi perdo tutti i profitti che ho realizzato da inizio anno novembre circa a 2022 ad ora perché semplicemente non riesco a riconoscere un cambio trend allora qui fatevi un po' i conti in tasca voi se ne vale la pena veramente gestire i propri investimenti totalmente così magari si possono anche miscelare le cose una parte la gestite con un'attività di holding che io chiamo holding intermittente nel mio modulo dove spiego appunto la gestione del portafoglio cripto io parlo di queste cose qui parlo dell'holding intermittente cioè una strategia che vi consente un ponto di essere degli holder fare pochissime operazioni ma non stare a perdere poi quando il mercato vi bastone insomma dopo un po' magari gestite quella parte in maniera più intelligente tra le altre cose ragazzi io qui ve lo ribadisco e sottolineo col timbro verde questo tipo di logica che io di cui parlo qui è la logica dei tutti i più grandi trader della storia io l'ho imparata da loro quindi non è una cosa che mi sto inventando io perciò vi assicuro che l'idea di essere holder strutton esiste solo nel mercato cripto e nei mercati classici gli istituzionali o chi di dovere i professionisti del settore non fanno questo tipo di operatività ragazzi vabbè ragionano su altri tipi di analisi a volte per fare quelle scelte come analisi fondamentale ma certamente se sono analisti tecnici o quantitativi o ciclici non stanno contro trend di mercato e questo ve lo dico perché altrimenti sembra che sono fuori dal coro ma non è così ragazzi io porto quelle che sono le nozioni di natura tecnica del trading nel mercato delle criptovalute da quando ho aperto il canale ma ricordatevi che quelle sono nozioni che nei mercati classici sono assodate ed è follia fare una cosa diversa anche se noi amanti delle cripto siamo un po' polli allora qui ci piace questa cosa allora la struttura come vedete secondo me è un po' in bilico proprio come vi dicevo perché prima fase ipotesi bullish chiude qui il ciclo mensile e riparte un nuovo ciclo mensile solo in questo caso secondo me nei prossimi giorni abbiamo possibilità di toccare nuovi massimi e fare una cosa del genere questa è la più riazzista e le altre secondo me non sono così cioè l'altra view che vi dicevo non è riazzista cioè non porta secondo me nella seconda parte quindi da agosto in poi alla possibilità di fare un nuovo massimo solo queste ipotesi che io chiamerò ipotesi 1 è l'ipotesi che ci porta a questa view mentre se da qui siamo andati a fare una struttura ternaria secondo me il massimo è stato fatto e faremo una figurazione di questo tipo molto simile a una cosa del genere come quella che avete visto anche nell'ultima correzione attenzione però perché anche da qui c'è un problema poi nella ipotesi numero 2 in quanto partirebbe un altro ciclo mensile che difficilmente potrebbe andare a breccare i massimi in quanto poi avremo la cosiddetta chiusura del ciclo trimestrale quindi ragazzi ipotesi numero 1 ciclo mensile in fase di chiusura adesso entro questa settimana è l'ipotesi che ci dà nuovi hype, nuovi massimi da valutare quindi lo valuteremo nel canale in questa settimana e nell'inizio della prossima ipotesi ternaria quindi ciclo mensile a tre tempi e non a binario come quello classico quindi 36-38 giorni e poi riparte il nuovo è un'ipotesi non rialzista, secondo me non è ribassista ma è laterale ribassista e lo è secondo me fino a settembre-ottobre questa cosa è un po' da valutare perché appunto come vi dicevo qui se aggiungiamo poi la struttura dell'altro mensile vedete che per arrivare al trimestrale arriviamo a settembre quindi in questo caso qui laterale ribassista verso settembre-ottobre con alcune cripto che potrebbero andare a spararsi le chiusure di alcuni cicli importanti intanto vediamo per esempio Ethereum su Ethereum io vi ho impostato quella che invece è l'ipotesi 1 non voglio a valutare l'ipotesi 2 questo perché come ben sapete per evitare confusione a volte vediamo su un grafico come Bitcoin entrambe gli scenari e poi su un grafico come Ethereum invece è uno scenario più conciso, più preciso per andare a eventualmente posizionarsi cosa farò io? tenterò l'ipotesi numero 1 perché se non va vado in stop immediatamente quindi in termini operativi da trader è più gestibile l'ipotesi numero 1 perché ragazzi? perché se mi scappa il trend poi e non entro nell'ipotesi numero 1 e il mercato va a fare nuovi massimi rimaniamo fuori quindi siamo fuori dal mercato fuori dal treno e non riusciamo più a salire il mercato ci sballotta in questo modo quindi è giusto tradare in termini da trader l'ipotesi numero 1 se non va e quindi andiamo nell'ipotesi di battista si prende uno stop si chiude in break even e basta quindi fine dei giochi ovviamente come si fa con un'inversione attendere un'inversione eccetera quindi poi il mercato svelerà le carte fra qualche giorno e noi dovremmo essere bravi trader a questo serve poi la tecnica ragazzi no? a salire sul carro in maniera corretta seguendo questi scenari va bene? perché io sono già consapevole che esiste lo scenario numero 2 quindi anche se vado a tradare lo scenario numero 1 qualora le cose vadano storte io me la filo con le gambe levate immediatamente quindi ci provo come si suol dire mi gioco la carta però se non va me la filo va proprio immediatamente e poi se ne parla verso dopo l'estate allora qui invece valutiamo solo l'ipotesi numero 1 con il ciclo in chiusura a breve tra le altre cose vedete questa struttura di eth è più pulita rispetto a quella di bitcoin in questo caso e sembra proprio indicare un ciclo mensile naturale in fase di chiusura a breve quindi vedete qui c'è poco da fare noi abbiamo una struttura ciclica vi metto anche la struttura con le glose vedete un po' qui siamo a 35 giorni 36 giorni quindi potrebbe assolutamente essere una fase di chiusura naturale un po' vi faccio capire anche qui la struttura che era avvenuta vedete 29 giorni questo è un ciclo mensile per chi magari non conosce un po' la ciclica in maniera approfondita però vedete qui ne ha fatto 57 perché? perché qui erano due strutture cicliche a forma ternaria quindi è quello che vi sto dicendo 1, 2 e 3 molto difficili da valutare molto rumorose e difficili anche da vedere e poi ha sparato invece un ciclo mensile qui vedete un po' da 25 giorni più cortino quindi questa fase qua sembra molto simile alla precedente potrebbe essere e come vi ho accennato o una struttura ternaria così sviluppata oppure una binaria che in questo momento è la più rialzista e potrebbe portare in effetti anche TH a fare nuove nuovi tentativi di raggiungere questi massimi addirittura il massimo del 2023 va bene detto questo ragazzi vi ricordo le offerte del Summer Break Friday non fatevele scappare soprattutto anche nel modulo gestione del portafoglio trovate la strategia del holding intermittente interessantissima è fondamentale per capire delle logiche e risparmiarvi i soldoni soprattutto risparmiarvi il concetto della rovina statistica la teoria della rovina statistica chi non è informato su questa cosa e compiti allora andatelo approfondire online poi magari ne parliamo scrivetemi nei commenti cosa ne pensate rovina statistica andare contro trend e perdere il 90% si chiama così detto questo ci siamo detti tutto ci vediamo domani nel prossimo video ciao ciao